Quanto è importante una corretta masticazione? Per mangiare? Importantissimo, ma non solo per mangiare. La masticazione è importante anche per i movimenti, per la postura. Tante cose succedono con la masticazione. E vi chiedevo, uno squilibrio di questa articolazione può comportare qualche disturbo? Assolutamente sì, può dare mal di testa, può dare dei problemi a livello posturale, può dare dei problemi a livello del torcicollo, può dare dei disturbi anche a livello emotivo, per assurdo. E mal di testa in che modo? Mal di testa, muscolo tensivo dovuto proprio all'alterazione di questa articolazione, della temporo mandibolare, volgarmente detta ATM. E come interviene quindi su queste disfunzioni? Intervengo con trattamento manuale, che ovviamente ormai abbiamo capito che un professionista usa molto le proprie mani, quindi col trattamento manuale e anche con alcune tecniche. Ad esempio utilizziamo un apparecchio che serve per fare delle, che emette delle vibrazioni, che sono molto utili per andare fondamentalmente a creare un ammorbidimento della tensione muscolare che si può creare. Ecco perché dico, la tensione emotiva sull'ATM è molto presente. Ad esempio abbiamo il brossismo notturno, cioè il serrare i denti, il digrignare i denti, che può comportare una serie di disturbi che i dentisti conoscono molto bene. In alcuni casi si usa ad esempio il bite notturno. Certo, quindi lei collabora anche spesso tra fisioterapista e dentista? La collaborazione con i medici è fondamentale. Nell'ATM non si può non avere questa collaborazione con loro. Ancora oggi molti dentisti però non conoscono il ruolo, la validità di come si può arrivare a perfezionare un lavoro che loro fanno chiaramente a livello dei denti e della bocca in generale, proprio con l'ausilio della fisioterapia. La fisioterapia per l'ATM è una branca molto specialistica ma anche molto utile proprio per risolvere tante problematiche.